Attestati 82 nuovi casi di positività al Covid-19 a Torre del Greco durante il weekend. Sono 33 i guariti. Il sindaco Giovanni Palumba esprime il suo cordoglio per la scomparsa del dottor Palpalardo, noto diabetologo dell'ASL, vittima del virus. Esprimo a nome dell'intera collettività alla famiglia e dalla comunità medica napoletana, in particolare quella di Torre del Greco, unita a quello dell'amministrazione comunale tutta. Sale dunque il numero di contagiati complessivi. Sono 1035 i soggetti in isolamento domiciliare, 18 gli ospedalizzati. Il complessivo dei guariti dal virus sale a 552. Sono 39 i decessi. A Castellamare di Stabbia si abbassa leggermente la percentuale relativa al rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi, ma sono ancora troppi i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 56 i cittadini risultati positivi al coronavirus, di cui 22 manifestano i sintomi lievi, mentre sono ben più gravi per un soggetto positivo di 71 anni. Tra i contagiati ci sono ancora giovanissimi, ben 7 ragazzi tra 9 e i 16 anni. Il totale dei tamponi lavorati di 336. Nella giornata di sabato sono stati registrati 21 nuovi casi a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 38 guarigioni. Il dato tiene anche conto dell'inserimento della piattaforma di pazienti risultati positivi in seguito a tamponi effettuati presso laboratori accreditati dalla regione Campania. 460 i cittadini attualmente positivi, 448 posti di isolamento domiciliare e 12 ricoverati. Sale 839 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 367 guarite e 12 decedute. A San Giorgio a Cremano si registrano 104 nuovi contagiati tra il 10 e il 20 novembre, numeri che si sommano i precedenti casi, per un dato complessivo di 867 positivi nella città. Il sindaco Giorgio Zinno sottolinea però il miglioramento della curva dei contagi, dati più rassicuranti rispetto a quelli emersi nella prima settimana di novembre, che il primo cittadino attribuisce all'istituzione della zona rossa.